Banconote false da 50 euro vendute via Telegram ed utilizzate per fare il rifornimento ai distributori di carburante. Questo quanto scoperto dai carabinieri della compagnia di Sansepolcro che hanno chiesto anche l'oscuramento di un canale dell'applicazione di messaggistica attraverso il quale venivano messe in vendita ingenti quantità di banconote contraffatte. L'indagine era iniziata dopo il sequestro di una banconota da 50 euro falsa che era stata scambiata in una stazione di servizio durante il rifornimento di carburante. Il gestore si era subito accorto di alcune anomalie sulla banconota ma le fattezze erano comunque abbastanza realistiche da ingannarlo. Avendo sospetti ha comunque allertato i carabinieri che sono riusciti a risalire al veicolo utilizzato per il rifornimento e fermare i suoi occupanti, due giovani appena maggiorenni adesso indagati per il reato di spendita di monete falsificate. Durante la perquisizione sono state trovate altre banconote da 50 euro in loro possesso che sono state sequestrate. Attraverso l'analisi dei telefoni cellulari del sospettato infine i carabinieri sono riusciti a risalire il canale Telegram utilizzato per la vendita. Le transazioni avvenivano attraverso internet mediante l'utilizzo di carte di credito prepagate non intestate. Grazie! 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 Grazie a tutti